Parlare della situazione esistente nelle scuole italiane in questa fase è sempre più difficile, in quanto fatti e misure stanno evolvendo in continuazione e in modo rapidissimo. I punti fermi sono davvero pochi. Sembra però risolta almeno la vicenda del contratto integrativo sulla didattica digitale integrata, firmato il 25 ottobre ma soltanto da Agnefe Cisle Scuola. Pochi giorni fa però la FLC CGL aveva fatto sapere che avrebbe sottoscritto l'accordo ma solo a condizione che venisse accompagnato da una riscrittura della nota del capo dipartimento Max Bruschi del 26 ottobre in modo da fornire alle scuole una interpretazione vincolante del contratto integrativo ponendo però anche le basi per la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio sulla attuazione del contratto stesso. La firma della FLC CGL è arrivata proprio nel fine settimana ed è così definitivamente risolta anche la questione della validità del contratto che qualcuno aveva messo in dubbio, in quanto Agnefe Cisle Scuola da soli non basterebbero. Ma per la verità la regola secondo cui le firme dovrebbero riguardare almeno il 51% della rappresentatività complessiva toccherebbe soltanto i contratti collettivi e non anche quelli integrativi. Ad ogni modo adesso il contratto c'è e si aspetta in giornata l'emanazione della nuova nota esplicativa a firma del capo dipartimento, nota peraltro già chiesta fin dal 26 ottobre dalla stessa Cisle Scuola. Contestualmente sta per essere siglata anche fra Ministero e Sindacati una nota congiunta che prevede impegni precisi in materia di relazioni sindacali, organizzazione di attività di formazione rivolte al personale e risorse specifiche per la didattica a distanza. L'altra questione su cui c'è molto dibattito e molta incertezza è quella relativa alla possibilità degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali di frequentare le lezioni in presenza anziché a distanza. Le perplessità non mancano perché diverse associazioni ritengono che questa soluzione potrebbe di fatto favorire la formazione di vere e proprie classi speciali. Per la verità con l'ultimo DPCM è stato però precisato che i figli del personale sanitario o di lavoratori che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali potrebbero frequentare in presenza. In questo modo si potrebbero formare nelle scuole gruppi misti di alunni. Per il resto è ormai evidente che fra Stato e regioni non c'è molta intesa. Clamoroso è il caso della Puglia dove il presidente Emiliano aveva emanato una ordinanza che bloccava le lezioni in presenza fino al 24 novembre anche per infanzia e scuole del primo ciclo. All'ordinanza sono seguite due sentenze del Tar fra di loro contrastanti e una nota del Ministero che suona come una vera e propria sfida nei confronti della regione. La Puglia, ha scritto il Ministero nella giornata di ieri, è stata classificata regione gialla quindi si deve attenere a quanto previsto nel DPCM del 3 novembre tenendo aperte le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Ne va, dice il Ministero, anche del diritto allo studio garantito dalla Costituzione. Controreplica di Emiliano che sostiene che la sua decisione è perfettamente congruente con quanto prevede il piano scuola del Ministero, secondo il quale in caso di aggravamento dell'epidemia le regioni non solo possono ma devono assumere le decisioni del caso. Ad aumentare l'incertezza nella serata di domenica è arrivato un comunicato dell'Ordine dei Medici che non lascia molto spazio all'ottimismo. Ci vuole un lockdown totale immediato, dice l'Ordine, altrimenti bisogna prepararsi a 10.000 morti in un mese. La situazione è complessa, anzi difficile, forse di più, quindi continueremo a tenervi informati, voi continuate a seguirci su questo canale e anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. 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 Grazie.